ragazzi grande ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video mi sono dimenticato di mettimi in demo 0 benvenuti in questo nuovissimo video di minecraft sul pc comunque oggi con la skin pazzarella siamo qui per sconfiggere era bene non me ne sono dimenticato ragazzi infatti questo video è uscito tipo qualche minuto dopo quello che ho detto che l'hai fatto in queste vacanze per non tenervi col fiero sospeso perché non viene l'ora di far vedere quella montagna russa si comunque oggi cioè se è sempre il giorno in cui ho praticamente fatto il video in cui ho trovato aerobrine quindi oggi vi farò oggi sconfiggeremo definitivamente aerobrine come non lo so con questa minigun pubblicità alla minigun comunque non so perché ho soltanto questi colpi di minigun ma devo mettermi il nuovo in game mode? ci ripete? che mod? allora no check guns no allora minigun bene 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 9 8 si zeshiki mod queste questo è il studio al telefono però è giocato per un giocco di tempo pensavo mi piacesse più minecraft sul telefono visto come speciale 1400 iscritti visto che non la porta da un bel po' però ovviamente una donna carina ragazzi aiuto non dire aiuto più ma aiutate aerobrine al massimo e lo sto sconfiggendo finalmente e lo sto sconfiggendo finalmente l'ho ucciso aerobrine ragazzi vi rendete conto che questa minigun è una bestia ho ucciso aerobrine e mi ha dato un asse di legno di quercia e mi metterò qua ho ucciso aerobrine ragazzi ho ucciso aerobrine va bene così non ci terrà più tormenti vediamo un po' se spumole di nuovo ma questo che strano ho uno spartiferro comunque ragazzi ora andremo anche se non so se ho preso il minecraft se c'è il minecraft comino ma non l'ho preso sicuramente quindi un'altra volta qui qua minecraft e andiamo subito alle montagne russe non l'idea faccio prima così ender pearl l'indizio questo c'è stato utilissimo dove sono le montagne russe e lì più o meno iniziamo a trasportarci qua ecco qua là vai grazie cilindaccio no bene lì 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 no lì lì ragazzi ok c'era un minecraft alla fine ma è incastrato quindi qui si mette e poi diamo pulsante 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 pulsa comunque game mode no qui va ho fatto lì 7 ok ragazzi queste montagne russe vi dico ragazzi e fortunatamente nella vita reale non ci sono mai andato perché non per altro ma un pochino paura delle montagne russe per quello che mi hanno detto ragazzi comunque sappiate che io ho un server ragazzi aiuto va bene non è che molto pauroso perché siamo sul minecraft comunque ragazzi avete visto quanto scende poi si frega il freno andiamo un po' se si può percorrere pure al contrario oh no non è non è saggio ho fatto un volo di 100 metri comunque ragazzi ora andiamo un pochino esplorare il mondo magari scaviamo un po' di terra sì la terra ci serve un pochino di terra non pensate mai comunque ragazzi vi devo questo episodio perché vi devo questi episodi perché lo speciale 1400 iscritti non l'ho fatto quando ho avuto proprio 1400 iscritti perché perché sono molto impegnato cioè non ho avuto il tempo poi ragazzi tutto va bene nel periodo di Natale forse dopo Natale però farò il video con Marti e quindi cercare di vedere i video perché mi farebbe molto piacere mi farebbe molto piacere ecco mi fanno molto piacere i video sì sì pure io guardo i video ovviamente tutti gli youtuber guardano i video scaviamo tutta la terra ah sono dei diselli ma comunque saluto Pierluigi, Alessandro e Elias sì del Elias e comunque ciao se vi stai guardando questo video beh mi ha salutato e mi fa molto piacere quindi avevo promesso che chi scriveva hashtag saluto comunque visto che anche altri hanno votato sicurezza informatica il prossimo video sarà sulla sicurezza informatica e parleremo in particolare di un tipo di virus che si è diffuso l'anno scorso sarà breve perché non c'è molto da parlare di un malware di un virus perché comunque già l'ho pubblicato un piccolo spezzettino da wikipedia e prenderò alcune cose non ve lo farò vedere in azione perché altrimenti come sul computer però non mi piace quindi beh diciamo saluto prendiamo un po' di terra e poi direte a cosa ti serve? a cosa ti serve di una terra? la terra pasqui? ma io non lo so sinceramente a me piace molto non la terra a me piace molto scavare in generale però visto che un mondo piatto dopo quattro blocchi si esce la bedrock non si può più scavare è un po' creativa quindi scusare i rumori però non posso dire qualcosa comunque ragazzi diciamo che se raggiungiamo i 40 no esagerare i 20 like se raggiungiamo i 20 like saluto tutti i 1400 iscritti e forse riaprirò il mio profilo instagram oggi tutto va bene però che non lo so ragazzi allora cosa ti servirà questa terra? allora innanzitutto dobbiamo fare una cosa visto che non abbiamo ancora una mansione sarebbe una casa ce la costruiamo ma non di terra perché utilizzeremo quella al massimo ma non ho una porta quindi questa terra ci serviva appunto per fare così questo è un tippone così ragazzi dobbiamo veramente rapinare questo rapinare questo di legger perché questo di legger si può essere con i miei altri quindi ho fatto i miei cottivi ok ragazzi ragazzi ssh acqua buca la ruolizza il signor viene ecco cambiamo dai facciamo non c'è solo niente cosa c'è la miseria nel caso ragazzi 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 Così in questo caso ormai sarà diventata la nostra, perché dobbiamo entrare furtivamente, quindi questa sarà la nostra base. Mi piace come base, quindi la component la metto qui. Allora, anzi, voglio provare anche una cosa. Herobrine mi ha cambiato il mondo, mi ha messo, cioè non sorge più il giorno, Herobrine avrà cambiato qualche impostazione del mondo, quindi dobbiamo assolutamente capire come uccidere Herobrine in maniera definitiva, cioè sbarazzarsi. Dobbiamo trovare un tutorial come sbarazzarsi di Herobrine, non su internet, non adesso, però dovrò trovarlo. Comunque, ragazzi, vi ho allungiato questo villaggio, quindi che vi dico, ragazzi, faccio un po' così. Ragazzi, comunque, vi volevo dire una cosa, che Minecraft si sta un pochino stravolgendo, non viene il mio Minecraft, non so se fuori a voi, perché a volte nella mia serie vanilla, a volte quell'episodio preciso no, però mi è capitato di vedere una volta soltanto una strana cosa, ovvero mi è capitato di essere con Minecraft 1.2.2 nelle mie serie vanilla. Mi sono dimenticato che quella era la serie vanilla e sono entrata con la 1.2.2, quindi non lo so. A me, ma comunque, ragazzi, visto che praticamente ormai non abbiamo niente altro da fare, vi faccio vedere una delle cose che mi piace fare di più. Questa cosa qui l'ha fatto molto con Marti, mi piace molto fare così. Vabbè, ragazzi, oltre a questa cosa strana, vi saluto e ci vediamo alla prossima, ragazzi, mi raccomando, non so se vi vedrò a Natale, ma inizio a farvi gli auguri, quindi buone feste. Non so se ci vedremo a Natale, spero che sì, ma il 24, il 25, no, sicuramente. Il vendire, forse, 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 no, neanche, perché sono, non sono, come si che so, sono a casa. Il vendire, io sono a casa. Non posso farlo, perché del vendire fino al 26 o 26, no, fino al 26 più o meno, io devo festeggiare con la mia famiglia, ovviamente, quindi, ragazzi, ci vediamo alla prossima. Mi raccomando, non aspettate un video del vendire al 26 perché forse non riuscirò a pubblicarlo, quindi, ciao!